ciao ragazzi purtroppo la luce non è giusta siamo in periodo invernale guardate cari amici cosa voglio farvi vedere per gli amici di auto abbandonate guardate che pezzi che il grande igor mi ha fatto trovare guardate cari amici la diretta del marvin per gli amici di auto abbandonate guardate che pezzi vi faccio vedere questo è un mg che gli amici la luce quella che è inverno le giornate sono corte purtroppo accontentatevi di questo filmato la luce non sarà il massimo ma comunque assaggiate questo profumo di ruggire questo profumo di auto abbandonate auto abbandonate con pezzi con pezzi veramente da 90 è guardate cari amici guardate gustate e ditemi se non è spettacolo quarenato dovresti venire per dire profumo di ruggire guarda renato devi venire anche tu tu ti muovi solo quando si trovano i tesori invece renato ogni tanto bisogna muoversi per lustrare cercare guarda renato e tutti gli amici di auto abbandonate guardate guardate la diretta la diretta della ruggine qua continua cari amici la luce magari ripeto non è al massimo però gustate gustate queste auto che qua stanno giacendo nel dimenticatoio ma che sicuramente qualcuno verrà a prenderle e a salvarle carissimi amici guardate profumo di ruggine c'è adesso vediamo qua di entrare tra le altre auto auto abbandonate amici qua la diretta continuo eh guardate cari amici ditemi voi se non è grande spettacolo e direi proprio di sì volevate le auto abbandonate nella vegetazione guardate il clima qua è quello giusto osservate godete guardate auto conservate quasi sfasciate ma che aspettano un proprietario venite presto a salvarle fantastico luogo di degrado e abbandono anche se siamo in un mezzo museo guardate le auto avvolte tra i rovi tra la vegetazione come piace a voi guardate cari amici guardate dove sto camminando tra la vegetazione rovi spide e lo faccio per voi mettendoci il mio cuore carissimi amici di auto abbandonate guardate vorrei farvi vedere tutte le auto però bisognerebbe coprire le targhe insomma accontentatevi di queste magari qua in primavera potrei portare qua il mio amico renato che inizierebbe delirare che a voi piace quando deliria guardate cari amici ditemi voi se non è spettacolo se non è profumo di ruggine se non c'è antichità se non c'è storia guardate un appello qua agli amici di auto abbandonate dal gruppo qua c'è da fare un bel raduno in queste zone materiale ce n'è faccio un appello qua al capo michele michele vieni che il materiale non manca ti metti d'accordo qua con igor che mi ha portato qua in questa zona e ti gusti anche tu il profumo di auto abbandonate chiudo il collegamento qua la luce ripeto quella che è ma ci sono sulle targhe qua la facciamo facciamo una panoramica ok dai guardate amici panoramica auto abbandonate cerco è questa qua non è che sia proprio vecchia ma guardate cari amici auto abbandonate qua fra l'altro queste auto vengono anche vendute amici di auto abbandonate il materiale c'è guardate osservate godete la diretta qua continua guarda questa qua possiamo farla vedere bene una lanciafuglia disgraziata che aspetta qualcuno andiamo a vedere lì cosa c'è eh sì anche qua interessante la ruggine c'è totale andiamo a vedere qua c'è una lancia fulvia bellissima in degrado e abbandono guardate ne valeva la pena anche oggi fare due passi qua le zone qua lombarde guardate il treno sta passando io sto filmando e andiamo qua per vedere ancora una volta l'ultima panoramica fantastica mercedes guarda qua renato se vieni in primavera qua puoi delirare quanto vuoi guardate ammirate godete non pensiate che comunque ogni ogni fine settimana abbia qualche chicca da farvi vedere accontentatevi di queste cose che le amici guardate spettacolo grande spettacolo adesso andiamo qua su questo porsche distrutto e chiudiamo qua il collegamento l'erois guardate amici profumo della ruggine c'è il degrado e abbandono c'è ma queste auto non vengono mazzullate sotto la pressa ma aspettano un proprietario qualcuno che ci metta dei bei soldi per restaurarli carissimi amici guardate godete spettacolo eccoci qua guardate spettacolare ne valeva la pena appunto venire qua in queste zone cari amici della ruggine pezzi storici ci sono e chiudo qua il collegamento vi abbraccio tutti quanti voi e forza con auto abbandonate grazie a tutti e ringrazio igor per questo fantastico luogo che mi ha fatto trovare